Onore ai caduti! Celebriamo il 206esimo annuale della Fondazione dell'Armone dei Grabinieri, ma festeggiamo anche la ricorrenza della prima medaglia d'oro all'Armone dei Grabinieri concessa alla bandiera. È una giornata come al solito molto importante per noi, ci dispiace non poterla condividere con la popolazione locale e con le autorità locali che sono state sempre presenti alle nostre cerimonie e che ci danno anche quella spinta per poter fare sempre meglio sul territorio. I Grabinieri del Comando Provinciale di Varese che in tutto l'anno hanno dimostrato un impegno veramente incredibile e anche in questo momento particolarmente complesso che ci ha visto affrontare la pandemia, non hanno mai avuto un attimo di esitazione conciliando le normali attività istituzionali di prevenzione al crimine a tutta un'altra serie di attività anche a supporto della popolazione. Nonostante questa giornata possa sembrare meno importante per la minor presenza di pubblico, la consideriamo un momento di grande soddisfazione.